Prima si è appostato e poi, quando è passata una donna, si è abbassato i pantaloni. Adesso dovrà rispondere di atti osceni il luogo pubblico, un quarantenne disoccupato, purtroppo non nuovo a questi fatti. È successo nei giorni scorsi a Levane, dove l'uomo, dopo essersi appostato, nei pressi di un parco dove i bambini vanno a giocare, si è denudato davanti alla signora che stava passando. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato tutto ai carabinieri di Levane che hanno individuato e denunciato l'uomo. Non è la prima volta che il quarantenne si lascia andare a simili atti. In passato si era infatti già introdotto nel palazzetto dello sport del comune di Bucine durante un allenamento di pallavolo e davanti a delle ragazzine di circa 11 anni, approfittando dell'assenza dei genitori e non visto immediatamente dall'istruttrice, si era tirato giù pantaloni e slip, si era poi rivestito e si era dato alla fuga. Anche in quel caso, poco dopo, era stato rintracciato, fermato e denunciato dai carabinieri per atti osceni aggravati.